Il 17 aprile 1975 nasce a Cosenza Stefano Fiore, centrocampista dotato tecnicamente con il vizio del gol deve il suo esordio in nazionale a Dino Zoff che lo lancia in occasione dell'amichevole giocata a Palermo contro la Svezia il 23 febbraio 2000. La definitiva consacrazione avviene agli europei dello stesso anno in Belgio e Paesi Bassi in cui segna il suo primo gol in nazionale nella seconda gara del girone contro il Belgio e gioca tutte le partite compresa la sfortunata finale persa al Golden Goal contro la Francia. L'avventura in maglia azzurra prosegue anche sotto la gestione tecnica di Giovanni Trapattoni tanto da segnare il suo secondo gol il 28 febbraio 2001 nell'amichevole di lusso disputata a Roma contro l'Argentina. Il suo destino è strettamente legato agli europei dopo aver infatti saltato il mondiale 2002 in Corea del Sud e Giappone partecipa nelle 2004 alla spedizione in Portogallo. Pochi mesi dopo esattamente a ottobre si consuma il suo commiato alla nazionale. Slovenia Italia è la 38esima nonché ultima presenza in maglia azzurra. Grazie a tutti.